Siracusa a contrasto alle piazze dello spaccio, sequestrate dose di droga. Continuano senza sostanche nelle giornate festive ai servizi della questura di Siracusa, finalizzata al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stuprofacenti, principalmente nelle piazze dello spaccio di Siracusa. In tale scenario operativo, nella mattinata di ieri, agente della volante hanno controllato nei pressi di Via Italia 103 una donna di 28 anni che, trovata in possesso di una dose di cocaina, è stata segnalata all'autorità amministrativa competente. Poco dopo, gli stessi operatori hanno proceduto al controllo di un uomo di 30 anni, sorpreso, con una dose di hashish. Anche per quest'ultima scattata la segnalazione. Entrambi, presenti in strada senza alcun giustificato motivo, sono stati sanzionati anche per aver violato le norme anti-Covid. Inoltre, un altro equipaggio delle volanti, durante il servizio di controllo del territorio, rinveniva e sequestrava in Via Santi Amato una dose di marijuana. Infine, alle 3.30 di questa notte, sempre in Via Italia 103, agente delle volanti hanno sorpreso un uomo che, alla vista della polizia, malcelava un certo nervosismo e tentava di allontanarsi repentinamente a bordo del proprio ciclomotore. Fuggettivo, un uomo di 42 anni, veniva raggiunto in Via Bartolomeo a Cannizza, sottoposto a controllo. Il ciclomotore Piaggio Liberty era privo di copertura assicurativa. Il 30enne è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. Inoltre, la patente di guida in suo possesso era scaduta nel 2018. L'uomo è stato sanzionato per le trasgressioni al Codice della Strada, segnalato dall'autorità amministrativa competente per l'uso personale e stupefacente, e sanzionato per la violazione delle norme anti-Covid.